Mi aspettavo già che in chiusura di legislatura si arrivasse a definire una governance diversa, mancava l'ultimo miglio, io credo che devo dare atto ai governi precedenti di avere se non altro dato stabilità al settore e di avere in qualche modo considerato questo settore non più come un costo ma come un asset economico per il paese perché continuo a dire che noi rendiamo di più di quello che prendiamo mettendo una P davanti alla parola rendere, però è chiaro che la governance così come oggi non renderà sostenibile non solo la spesa farmaceutica, non renderà sostenibile fare impresa in questo paese in impresa farmaceutica perché se pensiamo che oggi siamo sottoposti a dei regimi di payback per una spesa che è sottofinanziata che ormai sono diventate insostenibili, ci sono aziende che devono ripianare ogni anno 150 milioni, ma com'è possibile tutto questo? Quindi ci aspettavamo una governance che vedesse, c'è un indirizzo perché c'è un pilota nella legge di stabilità che dice che andiamo a vedere i costi per esempio in alcune patologie come quelle oncologiche e non solo del farmaco ma della malattia nel suo insieme per vedere a distanza di tempo gli outcome veri, questo dovrebbe essere l'indirizzo a cui tendere però bastava fare qualche piccolo passaggio che ci speriamo arrivi nel prossimo governo considerando che chiunque vada al governo veda questo settore non come un problema ma come un'opportunità per l'economia del paese perché se vogliamo i finanziamenti per la salute pubblica il pil deve crescere, il pil per essere sano ha bisogno di un'industria forte